ciao a tutti bentornati sul mio canale io sono dei simone alistanza un saluto a tutti innamorati come me delle canarie della spagna del portogallo ma oggi sono qui a concentrarmi soprattutto sul portogallo ok allora cominciamo a dire che la vita al portogallo diciamo un basso costo della vita ha un buon clima è un ottimo livello di servizi è un paese che ha saputo rimboccarsi le maniche ed oggi cresce quasi il doppio dell'italia ragazzi si cresce il doppio dell'italia calcolate che oggi sono 14.000 italiani che vivono in portogallo perché perché sono stati molto bravi a diciamo sviluppare una politica di accoglienza dell'immigrazione di tutti i paesi europei infatti c'è voglio parlare oggi di maddalena di santo 36 anni che aperto a faro proprio un'agenzia che aiuta le persone a trasferirsi in portogallo se vi interessa e volete approfondire un pochino di quel discorso cliccate su internet la rivista millionaire di aprile 2019 c'è proprio un articolo che parla di lei e vi do anche l'indirizzo dove potete prendete carta e penna è www.trasferirsi in portogallo.com allora da una parte vengono aiutati i pensionati che vogliono godersi la pensione dopo una vita di lavoro e pensate ragazzi vengono detastati per 10 anni quindi pensate la convenienza perciò tanti pensionati si stanno trasferendo in portogallo perché dopo una vita di lavoro vogliono veramente godersi qualcosa giustamente però devono proprio avere la residenza in portogallo dall'altra aiutano i professionisti di alto livello come ingegneri architetti persone che portano idee ultra innovative e queste persone vengono sempre detastate per 10 anni però del 20 per cento in più questa agenzia di questa ragazza di cui vi ho parlato ha aiutato già 900 trasferimenti ok e che cosa è successo con tutta questa immigrazione che c'è stata aiutato il portogallo a crescere perché quindi si sono creati comunque nuovi quartieri ci sono state nuove costruzioni c'è stato un incremento del lavoro perché comunque facendo nuove costruzioni si ha bisogno di architetti geometri pittori e muratori idraulici elettricisti quindi si è creato un giro di affari ecco in questo settore e questa cosa che è avvenuta è stata proprio chiamato il miracolo portoghesi sono stati molto molto bravi a fare questo per loro il turismo è una risorsa fondamentale ragazzi come già vi ho parlato nei video precedenti quanto sono stata a lanzarote sapete che io amo tantissimo l'isola canale a tenerif a forte ventura loro sono bravissimi a valorizzare al massimo e questa non è una stupidaggia anche quel poco che hanno ok sono bravi 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 a valorizzare tutto perché loro puntano tutto sul turismo infatti la maggior parte dei ragazzi che studia punta sul turismo perché sa che è una risorsa molto valida e quindi abbiamo detto due settori in espansione turismo edilizia per quanto riguarda la sanità il 70 per cento è privata e funziona benissimo i mezzi pubblici funzionano benissimo in questo momento gli affitti di una casa più o meno di 100 metri quadri si aggirano a 500 euro al mese avete chiesto quale business viene consigliato in portogallo beh il food italiano è sempre bene accetto e anche perché loro sono molto abituati a fare i loro soliti tre piatti ok spero che in questo video vi ho dato tante nozioni tante informazioni per qualsiasi cosa scrivetemi sarò lì a rispondere se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un mi piace tanti mi piace tanti nuovi video scrivetevi al mio canale è completamente gratuito basta cliccare su iscriviti e potete anche premere la campanellina che vi avvertirà quando farò dei nuovi video ragazzi buona vita a tutti si andate in vacanza in portogallo perché è da vedere è stupendo se potete fate più di una settimana perché non vi basta per vedere tutte le meraviglie che ci sono buona vita a tutti ragazzi ciao al prossimo video